Cuneo Cuneo ospita il DHL Test Match con Giappone e Stati Uniti, un test importante per la nazionale in vista del mondiale ma anche un evento importante per la pallavolo a Cuneo. L'evento importantissimo per il territorio cuneese, penso che avere qua tre nazionali maggiori che rappresentano il massimo delle nazionali a livello mondiale sia qualcosa che per il territorio, per il cuneese sia veramente molto importante. E' un evento che arriva grazie ad un lavoro di squadra che abbiamo fatto tutti quanti insieme con ASICS, con la Federazione Italiana Pallavolo, con le istituzioni a livello locale e anche e soprattutto le due società, Cuneo Grandavoglie e Cuneo Voglie, che hanno collaborato per creare questo evento. C'è ancora da lavorare perché però abbiamo ancora 15 giorni e quindi molto molto bene, siamo soddisfatti. Cosa vi aspettate da questo test? Ma in realtà da oggi intanto è aperta la prevenita quindi sarete su live ticket e è possibile acquistare il biglietto. Devo dirti che da un nostro punto di vista l'idea di avere un palazzetto gremito di persone, di tifosi sicuramente farà bene per il nostro sport e per la pallavolo sul cuneese. Quindi noi ci aspettiamo una buona risposta del pubblico, una buona risposta del territorio e speriamo che questo evento sia l'inizio di una grande stagione sportiva. Grazie